Le autorità tunisine ci hanno riferito che era organico all'ISIS, o meglio, ad un'associazione contigua all'ISIS. È stato seguito e osservato per diverse settimane durante il suo periodo di soggiorno nel centro di accoglienza vicino a Venezia, dove stava trascorrendo la quarantena in seguito all'arrivo in Italia. Le autorità tunisine, tramite l'Interpol, avevano infatti segnalato ai colleghi italiani la pericolosità del soggetto sbarcato in Sicilia a fine agosto. RF, queste le iniziali del nome del cittadino tunisino, 25enne, alla fine è stato arrestato al centro di permanenza e rimpatrio di Gradisca di Sonzo nel Goriziano. In realtà, come è stato sottolineato in conferenza stampa e in questura a Venezia, durante i pedinamenti e controlli in territorio veneziano non è emerso alcun collegamento tra il giovane tunisino e possibili preparazioni di attentati sul suolo italiano, come ha specificato anche il dirigente della Dicos, Carlo Ferretti. In Italia non ha fatto alcun tipo di attività preparatoria per fare attentati. Non ha avuto comportamenti che possano far desumere che l'Italia sia la sua meta finale. Alla fine però, dieci giorni fa, l'autorità giudiziaria tunisina ha internazionalizzato il provvedimento di cattura a suo carico perché è membro di una cellula terroristica contigua all'ISIS, operante appunto nel paese nordafricano e coinvolta in atti di terrorismo e fabbricazione di materiale esplosivo. Fermato a Gradisca, dove il 25enne tunisino è stato ospitato perché considerato socialmente pericoloso, sabato scorso la procura generale di Trieste ha convalidato l'arresto in attesa delle procedure di estradizione.